Zero pareggio giusto, possiamo dire? Ma, colazione clamorosa alla fine sta di beffa, nel senso che io non so come ha fatto a sbagliare, è una roba impossibile. Però diciamo che è giusto, perché al primo tempo noi non abbiamo fatto bene. Penso che negli ultimi 25 minuti il Parese ha dimostrato qualcosa in più, però è giusto il pareggio. Nel senso che abbiamo pensato di far giocare la squadra che domenica ha dimostrato di star bene, poi settimana mi hanno prestato qualche problemino agli adduttori e abbiamo preferito di non farlo giocare. Dopo le tante difficoltà di questa stagione, adesso c'è stato un cambio, come sta il gruppo, come ha preso questa novità e che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa oggi? Guarda, per il fatto che stanno entrando questi nuovi dirigenti, è chiaro che è cambiato tantissimo. Stiamo aspettando tutti mercoledì, perché mercoledì dovrebbe essere a livello ufficiale. Noi dall'inizio, che stiamo mettendo impegno, volontà, sacrificio, voglio veramente in questo momento ringraziare questi ragazzi che ci hanno seguito con noi dello staff, lavorando anche in situazioni veramente difficili. E' questa dimostrazione che ancora oggi questa squadra sta dimostrando di essere viva anche tutti i problemi che abbiamo avuto, anche pensate che noi abbiamo fatto un mese senza fare allenamenti. E questo bisogna dare atto che qualsiasi allenamenti che fanno adesso in questo momento questi ragazzi stanno dando il 100% con mille difficoltà. Però io voglio ringraziare proprio in questo momento a tutti, da primo all'ultimo, di quello che ci hanno dato fino adesso.